Bene, grazie Peppe, però voglio fare una precisazione. Mercoledì prossimo l'ingegnere Giuffrida sarà qui non un'intervista con me, ma l'intervista con Turi Udice nella rubrica Senti chi parla, perché due settimane fa c'è stato Claudio Conti. E oggi, mercoledì, Turi Udice avrà in studio Giovanni Di Stefano, l'archeologo per parlare del nostro museo, perché come ho già detto più volte io, il museo si sono preoccupati ora che lo hanno intitolato, ma prima si erano mai preoccupati, quindi credo che fare un discorso sul museo sia molto interessante. E chiudiamo il nostro indice di questa sera facendo gli auguri di Pasqua come ha già fatto Peppe. E però voi sapete che a Pasqua una delle cose più importanti sono appunto la tradizione gastronomica, perché noi abbiamo imbanate, imbanatiglie, i cassatelli di Pasqua, l'agnello, tutte le cose. Però non possiamo prescindere dalle nostre, dalla madre di tutte le focacce, dalla scaccia ragusana. La scaccia ragusana oggi ha il marchio DECO, cioè di denominazione comunale e quindi a questo punto crediamo che sia giusto dedicare questo spazio di chiusura, l'abbiamo fatto ieri con Gianni, con in studio l'assessore Massari. Oggi inutile intervistare l'assessore Massari facciamo queste interviste per parlare delle scacce iblee, a che punto possono essere collocate nel panorama del gusto della nostra terra. Grazie quindi per l'attenzione, seguite queste tre interviste in un servizio unico, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti!